Il mondo cambia, la tecnologia evolve e gli investimenti restano uno dei migliori modi per cavalcare i grandi trend che daranno forma al nostro futuro, partecipando con il nostro risparmio al treno dell'innovazione. Siamo orgogliosi di presentarvi la nostra nuova gamma di portafogli tematici. Con questa nuova opzione intendiamo offrire la possibilità di investire in alcuni importanti megatrend che caratterizzano la nostra economia, con la garanzia della gestione del rischio e della capacità di selezione degli ETF Money Farm. I nostri portafogli tematici hanno tre punti di interesse principali per gli investitori. Il primo è che crediamo che i temi che abbiamo selezionato abbiano la possibilità di generare un extra rendimento nel lungo termine. Punto secondo, investire nei portafogli tematici offre dunque la possibilità di incrementare la sofisticazione del vostro portafoglio, dandovi la possibilità di scegliere temi di vostro interesse che potranno caratterizzare il mercato del presente e del futuro. Punto terzo, vogliamo darvi la possibilità di investire in un ambiente di rischio controllato grazie all'approccio Core Satellite con la garanzia di gestione del rischio Money Farm. Ma cos'è esattamente l'investimento tematico e come si articola l'offerta Money Farm? In questo video spiegheremo tutti i dettagli. Partiamo dal capire cosa intendiamo per megatrend. Probabilmente molti investitori avranno già sentito parlare di investimenti tematici, ma per noi il megatrend è un concetto più ampio e vale la pena spiegare la differenza. Un tema è un nuovo processo produttivo, un settore emergente o una nuova tecnologia, mentre un trend è un cambiamento più ampio al quale possono fare riferimento vari temi. Per esempio, l'intelligenza artificiale, lo sviluppo degli sports e la cyber security sono tre temi diversi, ma che fanno parte del trend generale dell'innovazione tecnologica. Noi di Money Farm abbiamo preferito offrire agli investitori la possibilità di investire in trend piuttosto che in singoli temi. Crediamo che ciò permetta ai nostri investimenti di rimanere rilevanti più a lungo, dato che il nostro team di asset allocation rivaluta periodicamente la composizione dei portafogli per verificare se ci sono dei temi da tagliare o da aggiungere. Ma andiamo a presentare ora le quattro soluzioni che abbiamo preparato per voi. Innovazione tecnologica include una selezione di 10 ETF tematici che investono in società che operano in industrie innovative o sviluppano tecnologie rivoluzionarie legate all'ambito della digitalizzazione. Tra i temi che compongono questo portafoglio troviamo l'esplorazione dello spazio, la robotica, le auto elettriche, l'intelligenza artificiale e le batterie elettriche. Queste tecnologie sono in alcuni casi in una fase iniziale di sviluppo, ma hanno la possibilità di diventare sempre più rilevanti in futuro. Il secondo portafoglio investe in temi legati ai cambiamenti demografici e sociali. All'interno di questo trend si trovano temi come la ricerca farmaceutica, l'invecchiamento della popolazione, ma anche gli sports e le smart cities o i beni di lusso. Il terzo portafoglio riguarda la sostenibilità. All'interno di esso abbiamo raccolto ETF che si riferiscono a industrie attive nell'ambito della transizione verde o dell'energia pulita, con temi come l'economia circolare, i materiali rari e strategici o la blue economy. Infine, la quarta soluzione è un portafoglio multi-trend in cui troviamo una selezione dei migliori ETF delle tre linee tematiche, costruito per garantire al cliente la possibilità di avere un posizionamento sui tre trend a livello generale. Insomma, le scelte e gli spunti non mancano. Ma quali sono le caratteristiche uniche con le quali abbiamo voluto caratterizzare l'offerta MoneyFarm? L'investimento in megatrend si configura come un portafoglio satellite, che si va quindi ad aggiungere a quello core dell'investitore. Vuol dire che si potrà destinare solo una percentuale del proprio portafoglio a uno o più trend. Gli ETF tematici sono infatti caratterizzati da una volatilità maggiore rispetto agli indici azionari generali. Attraverso le nostre tecnologie e la nostra esperienza valuteremo la quota massima che ogni investitore può destinare ai megatrend, mantenendo l'investimento adeguato dal punto di vista del rischio. Un ulteriore valore aggiunto dei nostri portafogli è il processo che il nostro team di asset allocation ha messo in piedi per costruirli. La componente satellite del portafoglio è investita in una selezione di ETF tematici. Il nostro team ha mappato l'universo degli ETF tematici disponibili e li ha raggruppati a seconda dell'esposizione a settori e temi specifici, classificando successivamente questi gruppi di temi in megatrend. Attraverso la tecnologia di machine learning abbiamo analizzato il contenuto dei fondi per evidenziare eventuali sovrapposizioni al fine di evitare un'eccessiva concentrazione in poche aziende. Una volta mappati i fondi abbiamo selezionato i migliori secondo noi, utilizzando il nostro tradizionale processo a cui abbiamo apportato delle opportune modifiche per adattarlo alla realtà dei fondi tematici. Infine abbiamo creato i portafogli, cercando di massimizzare il rapporto tra volatilità e rendimenti potenziali, gestendo il più possibile il rischio stimato dei prodotti, senza alcuna commissione extra. Tutti coloro che volessero sfruttare questa opportunità possono accedervi attraverso l'app o l'area dedicata e ovviamente il nostro team resta a disposizione per qualsiasi dubbio o domanda. Grazie.